E' un grande esempio quello che Cristo ci ha lasciato. E' che tutti siamo invitati a seguirlo, quindi dobbiamo essere contenti che altri possono riconoscere in noi il messaggio di Cristo Gesù. Ieri, così leggendo qualcosa, vi sono trovato a leggere la storia di una famiglia, di una famiglia della Bibbia, che ha lasciato un esempio. E' che questo esempio è stato apprezzato da parte di Dio e che addirittura ci invita a fare anche a noi altrettanto. Per me è come se fosse la prima volta, non so se altre volte ne ho sentito parlare o non mi ricordo, purtroppo non è che riesco a fare affidamento in maniera totale. E' come se fosse la prima volta per me, magari voi conoscete già questa storia. La troviamo nel libro di Geremia al capitolo 35 e parliamo di Reca e della sua famiglia, di suo figlio, della sua famiglia e di una scelta che loro hanno fatto e una scelta che hanno perpetrato non solo per alcuni giorni, non solo per alcuni mesi, ma per tanti anni sono rimasti fedeli al loro padre. Gli ha dato un insegnamento che loro hanno conservato e il Signore si serve di questo esempio per dire a Israele vedete come loro sono stati fedeli al loro padre? Perché voi non siete fedeli alle mie leggi e ai miei statuti? E vediamo che nel capitolo 35 si racconta un po' la storia di questa famiglia siamo al tempo del profeta Geremia e regnava Joachim siamo in un periodo che precede la deportazione in Babilonia quindi Israele è in decadenza nonostante tutti gli insegnamenti e il messaggio dei profeti Bene, leggiamo allora dal versetto 2 anzi, leggiamo dall'inizio La parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno al Tempio al Tempo, scusate, di Joachim figlio di Giosia, re di Giuda dicendo vai alla casa dei recabiti parla loro conduceli quindi nella casa dell'Eterno in una delle camere e offri loro vino da bere Allora io presi Iazania figlio di Geremia figlio di Abazia i suoi fratelli e tutti i suoi figli e tutta la casa dei recabiti e li condusse nella casa dell'Eterno nella camera dei figli di Anan figlio di le d'Alia Versetto 5 Pose quindi davanti ai figli della casa dei recabiti dei boccali pieni di vino e delle coppe e dissi loro bevete vino ma essi risposero noi non beviamo vino perché Ionadab, figlio di Recap, nostro padre, ci ha comandato dicendo non berrete vino in eterno né voi né i vostri figli. Quindi vediamo qui, abbiamo la storia di questo Recap, che è il capostipite, ed è il figlio che dà un insegnamento agli eredi e dà un ordine. L'abbiamo letto al versetto 5, mi pare, no? No, versetto 6, figlio di Recap, nostro padre, ci ha comandato dicendo non berrete vino in eterno né voi né i nostri figli. La testimonianza ci dice, dice Dio in questo modo, citando questo esempio, cercava di sottolineare lo stridente contrasto fra l'ubbidienza dei Recapiti all'insegnamento del padre e la disubbidienza e la ribellione del suo popolo. i Recapiti avevano obbedito all'ordine del loro padre, ora si rifiutavano di trasgredirlo, mentre che gli uomini di Giuda ascoltavano i messaggi di Dio e nonostante venivano annunciate delle sciagure, veniva annunciata la deportazione, Giuda non si pentiva. Questo perché dentro di noi può avvenire, avviene qualcosa. Dice, se noi siamo toccati dall'influsso dello Spirito Santo e prendiamo delle decisioni, noi le riusciamo a mantenere e le portiamo avanti. Ma se invece noi respingiamo l'azione dello Spirito Santo, diventiamo refrattari, tutto quello il Signore vuole dirci, noi lo rifiutiamo. E a questo punto poi dobbiamo anche beccarci le conseguenze. Parlando di Giuda, dice, Dio aveva supplicato Giuda di non provocare la sua collera, ma essi rifiutarono di ascoltarlo. Alla fine fu pronunciata la sentenza nei loro confronti, sarebbero stati condotti in cattività. Noi non abbiamo idea di che cosa significa essere in cattività. Noi siamo cresciuti, a parte qualcuno, in un periodo di pace, di tranquillità, di libertà. Quindi l'idea della cattività, della persecuzione, ne abbiamo parlato che ci sarà una persecuzione, ma non è che tocchiamo con mano la persecuzione. A volte sentiamo qualche notizia da qualche altra parte. Il Dio stava per punire Israele. Bene, che cosa era successo? Torniamo indietro in questa storia dei ricabiti. I ricabiti avevano ricevuto la promessa di una benedizione perpetua. Il profeta aveva dichiarato Stiamo leggendo i versetti 18 e 19 del capitolo 35 All'ordine del vostro antenato, Ionadab, avete eseguito le sue prescrizioni. Geremia 35 Avete fatto fedelmente quanto vi avevo ordinato. Per questo io, il Signore dell'universo, Dio di Israele, prometto che tra i discendenti di Ionadab, figlio di Rechab, ci sarà sempre qualcuno che avrà l'onore di servirmi. Quindi il Signore fa questa promessa. Vista la fedeltà di questi eredi, io prometto, siccome voi vi siete comportati fedelmente secondo quello che vi è stato insegnato, che ci sarà sempre qualcuno di voi che mi potrà servire. E in questo modo il Signore cerca da un esempio anche al suo popolo della fedeltà e l'ubbidienza e delle benedizioni che ne sarebbero conseguite. Quello che a noi interessa maggiormente dice questa lezione è valida anche per noi oggi. Quindi siamo 2.000 anni più avanti, no, siamo 3.500 anni più avanti, siamo ai nostri giorni. Dice, se le legittime disposizioni di un padre buono e saggio che si è servito dei mezzi migliori e più efficaci per preservare la sua progenie dall'intemperanza sono degne di essere scrupolosamente seguite, sicuramente l'autorità di Dio dovrebbe essere maggiormente rispettata perché il Signore è più santo dell'uomo. Quindi, ripeto, Dio si serve di questa famiglia, di questo esempio, per dire Avete fatto bene a seguire questo esempio ma fareste ancora meglio se seguiste i miei ordinamenti. Leggiamo il quadro completo. Abbiamo letto solo il versetto 6 dove viene proibito, dice Non berrete vino in eterno né voi né i vostri figli. Leggiamo dal versetto 7 in poi Non costruirete case, non seminerete alcuna semenza, non pianterete vigne e non ne possederete alcuna ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita affinché viviate lungamente nel paese dove risiedete. Così noi abbiamo ubbidito alla voce di Ionadab, figlio di Rechab, nostro padre, in tutto ciò che ci ha comandato di non bere vino per tutta la nostra vita tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli e le nostre figlie di non costruire case per abitarvi di non avere né vigna né campo né semenza ma abitiamo in tende e abbiamo ubbidito a fatto tutto ciò che Ionadab, nostro padre, ci ha comandato. A volte nei racconti delle grandi famiglie sentiamo racconti simili, insegnamenti che si tramandano da padre in figlio. Forse anche mio figlio può dire sì, mio padre mi ha raccontato questo di suo padre e io posso raccontarvi di mio padre, di mio nonno e quant'altro. Oppure ci possono essere delle abitudini che sono tradizioni di famiglia. Che ne sono? Tradizioni della famiglia La Corpia, della famiglia Ciprio, della famiglia Gallo. perché magari c'è qualche cosa che li contraddistinta. Bene, in ricapite sappiamo che cosa li ha contraddistinti. Questo divieto delle bevande alcoliche e insieme a questo di vivere in maniera fuggiasca, cioè nomade, una vita nomade. Non avrete case, non avrete terreni, non coltiviterete i terreni e quindi abiterete nelle tende. Una vita semplice dove anche il cristiano degli ultimi tempi che si sta preparando per il regno dei cieli è invitato a seguire. Anche noi siamo invitati da Cristo Gesù a non avere tesore su questa terra. Quindi non mettere il nostro cuore su una casa, su un terreno, su un bene, perché potrebbe essere un inciampo, potrebbe essere un intralcio, potrebbe essere un impedimento. Sappiamo che per la moglie di Lot fu un tremendo dover lasciare Sodoma e alla fine non resistete e si voltò indietro e perdete la vita. Quindi questa famiglia ebbe degli insegnamenti. Stiamo parlando di migliaia di anni fa e lo hanno mantenuto per decenni. Dall'altra parte sappiamo che il nostro Signore, il nostro Creatore, cerca in tutti i modi di fare che cosa? Di ricondurre i Suoi figli a Lui, di far riconoscere i propri peccati e di pentirsi. A volte, per un determinato periodo di tempo, sospende le punizioni che ha promesso. Ma poi a volte, a volte, nel momento in cui l'uomo persiste nei suoi errori, arrivano anche le punizioni. vediamo che avevano ricevuto questo insegnamento, questa era la loro vita e il Signore ha detto vai, vai, fai una prova, prova a offrire a questa famiglia del vino da bere. Non ne hanno bevuto, se noi rimaniamo fedeli all'insegnamento di nostro Padre. Torniamo indietro, secondo a Samuele, capitolo 4, versetti 1 e 2. Dice, il figlio di Saulo aveva due uomini che erano capitani di Schiere. Il nome dell'uno era Baana e il nome dell'altro Recav erano figli di Rimon di Be'eroth della tribù di Beniamino perché anche Be'eroth è considerato parte di Beniamino. Qui abbiamo l'inizio quando comincia questa famiglia. Or Jonathan figlio versetto 4 capitolo secondo Samuele 4, versetto 4. Or Jonathan figlio di Saulo aveva un figlio con i tiri storpi e gli aveva cinque anni quando giunse da Jezerel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. La sua notizia lo prese e fuggì ma nella fuga precipitosa il bambino cadde e rimase Zoppo. Il suo nome era Mephibosheth. I figli di Rimon Berotita Reca e Bana si mostrano e giunsero nell'ora più calda del giorno a casa di Isbosheth che stava prendendo il suo riposo pomeridiano entrarono a casa e uccisero. lo colpirono il ventre poi Reca e suo fratello Bana si diedero alla fuga. Quindi vediamo siamo al periodo di Saul quando muore Saul e Jonathan in battaglia e è nello stesso periodo in cui comincia questa famiglia. ancora troviamo altri dettagli della vita di questa famiglia nel secondo libro del Re al capitolo 10 e vediamo che questa famiglia viene lasciata traccia nella parola del Signore perché è rimasta fedele all'insegnamento di suo padre in modo particolare viene messa in relazione a stenersi dalle bevande alcoliche ma cosa ci dice la parola di Dio sulle bevande alcoliche? leggiamo la storia che conosciamo Genesi capitolo 19 versetto 31 siamo al tempo di Sodoma dopo che miracolosamente Lot e le figlie vengono tratte in salvo leggiamo dal versetto 31 ora la maggiore disse alla minore nostro padre è vecchio non vi è alcun uomo nel paese che possa unirsi a noi come si usa su tutta la terra vieni facciamo bere del vino al nostro padre corichiamoci con lui così potremo assicurare una discendenza al nostro padre così quella stessa notte fecero bere del vino al loro padre e la maggiore entrò si coricò con suo padre e egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si levò all'indomani la maggiore disse alla minore ecco la notte scorsa io mi sono coricato con mio padre facciamogli bere del vino anche questa notte poi tu entri e coricati con lui affinché possiamo assicurare una discendenza al nostro padre anche quella notte fecero bere del vino al loro padre la minore andò a coricarsi con lui e egli non si accorse né quando ella si coricò né quando si levò così le due figlie di Lot rimasero incinte per mezzo del loro padre e sappiamo che ebbero due figli maschi Ammon e Moab che vengono inizio a due popoli che furono sempre nemici del popolo di Israele ma non troviamo troviamo la storia ma non troviamo un segno di approvazione di quello che hanno fatto queste due figlie anche se per certi aspetti avevano ragione la città era distrutta non c'era più nessuno bisognava in qualche modo trovare il modo per andare avanti per ricominciare da capo ma il metodo che hanno scelto non è quello che ha provato da Dio scorrendo la storia biblica andiamo arriviamo al tempo dei giudici e sappiamo che al tempo dei giudici c'era la necessità di un liberatore i filistei stavano sempre a dare fastidio a Israele e sappiamo che nel libro dei giudici troviamo la storia di un grande personaggio famoso conosciuto stiamo parlando di Sansone quali sono state le direttive che furono date ai genitori di Sansone giudici capitolo 13 versetto 4 giudici capitolo 13 versetto 4 ora guardati dal bere vino o bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro questo è stato l'ordine che l'angelo diede in primis alla mamma e poi l'ho ripetuto anche a Manoa al padre perché? perché c'era un programma Sansone doveva essere un personaggio speciale doveva essere un nazireo c'era delle caratteristiche particolari e cominciavano queste buone abitudini ancora prima del concepimento la scienza medica ha confermato qualche decennio fa la correlazione del feto in gravidanza delle influenze positive o negative che può ricevere anche un feto che si sta formando quindi le scritture insegnano che la madre deve fare attenzione alle proprie abitudini di vita la serva di Dio dice quando Dio scelse Sansone come liberatore di Israele mandò l'angelo del Signore a dare indicazioni ai genitori molte volte noi come genitori invece dice molti genitori trascurano gli influssi prenatali ma Dio non fa così dice il solenne messaggio venne inviato due volte alla mamma e poi anche al padre la serva di Dio fa questa premessa prima di leggere il versetto 14 rivolgendosi a una madre ebrea Dio parla alle madri di tutti i secoli quindi anche alle nostre mamme alle mamme odierne e future osserverà tutto quello che le ho comandato il benessere del bambino che deve nascere dipende quindi in modo particolare delle abitudini della madre i cui gusti e le cui passioni devono essere sottomessi a dei principi se vuole adempere il piano che Dio ha progettato dandogli un figlio deve evitare un certo numero di cose negative sappiamo appunto che certamente ci furono le benedizioni da parte di Dio ma Sansone fu un liberatore di Israele nonostante i suoi comportamenti non sono stati del tutto esemplari ma intanto è diventato la persona più forte di tutta la terra andando avanti andiamo un poco più avanti della storia che abbiamo letto prima in Geremia dei Re Capiti e andiamo quando arriva la deportazione la prima deportazione da Gerusalemme a Babilonia fra i personaggi che andarono a Babilonia che furono deportati a Babilonia troviamo quattro ragazzi che noi conosciamo i loro nomi ce li ricordiamo? quali sono questi nomi? più famoso di tutti ce li abbiamo anche qua Daniele Misal Azaria e Anania la serva di Dio dice parlando di loro Daniele e i suoi compagni erano stati abituati dai loro genitori a una vita di stretta temperanza quindi a comportarsi in maniera corretta era stato insegnato loro che Dio li aveva ritenuti responsabili delle loro capacità per cui non dovevano mai frenare lo sviluppo o indebolire le proprie capacità ci sono delle abitudini di vita che possono aiutarci a migliorare altre a peggiorare la sorella ci ha raccontato un'esperienza di fratelli che hanno migliorato la loro situazione di salute perché hanno applicato un comportamento cioè una dieta rigida alimentare e hanno risolto dei loro problemi di salute ma altre cose possono essere fatte per a livello preventivo dice parlando di Daniele la serva di Dio dice ancora se Daniele lo avesse desiderato avrebbe potuto trovare nell'ambiente che lo circondava una scuola valida per rinunciare alle sue abitudini di temperanza Daniele si trova strappato dalla sua famiglia strappato dal suo paese portato in un paese straniero come schiavo essendo di origine nobile essendo un giovane non è stato condannato ai lavori forzati ma c'era un progetto su Daniele e i suoi compagni una educazione una rieducazione quindi rifare queste persone secondo gli usi i costumi e le abitudini dei babilonesi avrebbe potuto sostenere Daniele che essendo alle dipendenze del re non poteva evitare di mangiare i suoi cibi e bere il suo vino infatti adeguandosi agli insegnamenti divini avrebbe offeso il monarca rischiando di perdere il suo incarico forse di perdere anche la sua vita d'altra parte se si fosse allontanato dai comandamenti di Dio avrebbe ottenuto l'approvazione del re e avrebbe avuto dei vantaggi materiali ma poi da parte di Dio ma Daniele non esitò teneva più all'approvazione di Dio che a quella del più potente monarca gli era più cara della sua stessa vita a lui non importava se il re avresse deciso di porre fine alla vita di Daniele e dei suoi compagni Daniele 1.8 un versetto molto conosciuto infatti dice decise Daniele in cuor suo di non diventare impuro mangiando lo stesso cibo e bevendo lo stesso vino della tavola del re Daniele non fu solo insieme ai suoi compagni e dice loro non scelsero semplicemente di distinguersi non l'hanno fatto per mettersi in evidenza non hanno voluto disonorare Dio neanche in quella situazione questo è un esempio per noi a volte noi pensiamo che a casa nostra giustamente facciamo quello che noi riteniamo giusto ma quando ci troviamo in un'altra situazione quando siamo a scuola quando siamo nell'ambiente di lavoro quando ci troviamo per strada come ci dobbiamo comportare fra i cibi presentati alla tavola del re c'erano anche carne di maiale e altre carni dichiarate impure dalla legge di Mosè e che non erano state espressamente e che erano state espressamente vietate dagli ebrei quindi Daniele si trova davanti a una prova cosa fare cosa decidere tu cosa avresti deciso naturalmente la storia ci parla di Daniele e di suoi compagni ma non furono solo quattro le persone deportate da Israele a Babilonia la Bibbia ci parla di queste quattro persone perché queste quattro persone hanno fatto una decisione diversa hanno deciso di rimanere fedeli agli insegnamenti ricevuti dai loro genitori agli insegnamenti ricevuti da Dio anche a rischio della propria vita abbiamo detto decise Daniele in cuor suo di non contaminarsi con i cibi del cuore oggi ecco perché noi parliamo della storia di ieri ma perché anche noi oggi abbiamo un riscompo molti tra i cristiani professanti giudicherebbero Daniele troppo scrupoloso e lo considerebbero un fanatico e un bigotto esagerato non c'è bisogno di comportarsi fino a questo punto altri dettagli sulla vita di Daniele Daniele era solo un giovane quando fu portato in cattività a Babilonia approssimativamente aveva 15 o 16 anni Daniele tu quant'è Daniele? 16? 17? un po' più anni perché veniva chiamato ragazzo questo significa che era nell'età dell'adolescenza domanda perché Daniele rifiutò di mangiare alla tavola del re perché ha rifiutato di bere il vino dice sapeva che se avesse se avrebbe bevuto il vino l'avrebbe gustato e avrebbe potuto preferirlo all'acqua lui e i suoi compagni fecero una decisione una riunione si consultarono studiarono diligentemente questo tempo tema non è stata una decisione presa così adesso facciamo questa scelta giunsero alla conclusione che il vino era una trappola la serva di Dio dice rifletterono sulla storia di Nadab e Abiù altri due personaggi figli di Aronne che conoscevano dalle pergamene e dalla storia in quegli uomini il consumo di vino aveva incrementato il loro gusto per quella bevanda bevero vino prima di realizzare il servizio sacro nel santuario i loro sensi si ottenebrarono non distinguendo più il bene dal male hanno usato in maniera diversa il sacro fuoco e rimasero uccisi quindi loro hanno capito per rimanere sobri per rimanere svegli noi non possiamo ubriacarci non possiamo abituarci alle bevande del re dice a Daniele i suoi compagni amavano la verità che era arrivata loro tramite la ripetizione delle storie da generazione in generazione dice ma l'immagine di Dio era incisa nei loro cuori loro conoscevano il messaggio che Dio aveva dato loro un altro tema che questi giovani presero in considerazione era il fatto che cosa faceva il re prima di mangiare cosa facciamo noi solitamente prima di mangiare ringraziamo il signore per gli alimenti per le bevande il re faceva la stessa cosa ma non ringraziava Dio chi ringraziava il re il re chiedeva sempre una benedizione prima di cibarsi ed era diretta ai suoi idoli separava una parte dei suoi alimenti una parte del suo vino a fine di presentarli agli idoli che adorava questa porzione d'accordo con l'istruzione religiosa che avevano ricevuto consacrava la totalità al Dio pagano Daniele e i suoi tre compagni considerarono che sedersi alla tavola dove si praticava tale idolatria avrebbe disonorato il Dio del cielo quindi c'è un altro problema se giunge oltre al fatto che loro alcune carni non le mangiavano eccetera c'era questo fatto che era abbastanza grave per loro dover onorare gli idoli babilonesi e questo significava disonorare il proprio Dio la serva del Signore conclude questo passaggio non vi era presunzione in questi giovani ma un fermo amore per la verità e la giustizia essi non scelsero di essere diversi ma dovettero essere hanno dovuto fare una scelta altrimenti avrebbero corrotto le proprie abitudini sarebbero conformati a tutto il resto sappiamo anche il resto della storia qual è stata la storia? come hanno cominciato? con arroganza? hanno parlato con la persona preposta hanno concordato di fare una prova di dieci giorni dice facciamo una prova vediamo come va qual è stato l'esito della prova? hanno affrontato un esame e davanti all'esame queste persone risultarono migliori delle altre ma in maniera evidente quindi alla fine loro furono liberati sempre a proposito del mangiare in modo particolare del bere leggo un trafilo della della del 29 luglio 1884 il boccone non ha bisogno di essere diluito non sono necessarie delle bevande ai pasti si deve mangiare con calma permettere alla saliva di mescolarsi con il cibo quanti più liquidi si versano nello stomaco tanto più sarà difficile digerire il cibo perché prima dovranno essere assorbiti i liquidi non esagerate nel consumo di sale smettete l'uso dei sottaceti tenete lontano dal vostro stomaco i cibi troppo speziali ma se c'è proprio bisogno di spegnere la sete tutto ciò che richiede la natura è acqua pura bevuta un po' prima e un po' dopo il pasto non prendete mai tè caffè birra vino o bevando alcoolico di alcun tipo l'acqua è il miglior liquido possibile per depurare il tessuto questa è ripeto testimonianza della sorella white andando avanti nella nostra carrellata storica arrivati al parlando di persone prevoste per un ruolo particolare nel nuovo testamento chi troviamo troviamo il precursore di Gesù Giovanni Battista che notizie abbiamo sulla sua vita una vita semplice frugale nell'abbigliamento nell'alimentazione nelle sue abitudini dice grazie allo spirito e alla potenza di Elia Giovanni Battista ha preparato la via al Signore ha orientato il popolo verso la vera saggezza lui rappresenta coloro che vivranno negli ultimi giorni quindi stiamo parlando ancora di noi e riceveranno da Dio la missione di comunicare al popolo le sacre verità preparare la via per il ritorno di Cristo Giovanni era un riformatore l'angelo Gabriele inviato posseditamente dal cielo per parlare con il padre e la madre di Giovanni presentò una vera e propria lezione di riforma sanitaria quali sono stati gli insegnamenti che sono stati dati a Zaccaria e a Elisabetta le stesse indicazioni che sono state date a Manoa e alla mamma di Sansò a stenersi dall'alcol da ogni bevanda inebriante eccetera parlando della vita di Giovanni dice il suo regime alimentare costituito da vegetali miele selvatico poteva essere considerato come una forma di censura è una vita molto semplice ma lui lo ha fatto per vivere in contraposizione a quello che era la vita cortigiana e quant'altro quindi un esempio per noi dice coloro che preparano la via per il ritorno di Cristo vengono paragonati a Elia questo fedele proveta così come a Giovanni quindi anche noi dobbiamo seguire le orme di queste persone che ci hanno preceduto e che con loro esempio sono un esempio anche per noi abbiamo delle perle di Salomone sempre a proposito del vino Proverbi 20 versetto 1 il vino è schernitore la bevanda inebriante e turbolenta chiunque se ne lascia sopraffare non è saggio ancora Proverbi 23 29 non guardare il vino quando rosseggia quando scintilla nella coppa e va giù così facilmente alla fine morde come un serpente punge come un basilisco parlando ancora del popolo di Israele la servia di Dio dice l'uso del vino fra gli israeliti fu una delle cause che finalmente contribuì alla loro schiavitù e qui abbiamo dei messaggi rivolti al tempo del profeta Amos e quant'altro dice quelli che occupano incarichi pubblici di fiducia non devono dimenticare la legge di Dio e pervertire il loro giudizio per mezzo del vino e delle bevande forti governanti e giudici dovrebbero essere sempre in condizione di seguire le istruzioni del Signore a giudicare in maniera corretta spesse volte mi ricordo che il consulente che avevo prima mi diceva alla corte ricordati le più grandi decisioni sono state sempre prese su un tavolo nel momento in cui si mangia si prendono le decisioni più importanti e spesse volte certe decisioni sono state prese storicamente sì durante un pasto ma in maniera bizzarra in maniera errata perché si era storditi dall'eccessivo quantità di mangiare o ubriachi pensiamo appunto a Erode che fece una grande decisione e permettendo così l'uccisione di Giovanni dell'artista allora parlando sempre di questo tema dice l'Eterno il Dio dei Cieli governa egli è l'unica autorità soprattutto il re e i governanti della terra egli ha dato particolare indicazione nella sua parola riguardo l'uso del vino e di bevande inebriante ha proibito il loro utilizzo ha sottolineato la sua proibizione con severa munizione e minaccia il devieto di bere alcolici non è un atto di arbitrarietà questo è quello che ci dice lo spirito di profezia dice per le persone che hanno ereditato l'appetito per gli stimolanti non è bene bere vino o alcolici nel loro caso perché Satana di continuo sollecita il loro appetito veniamo ancora illuminati da questo punto di vista abbiamo ancora un'esperienza che ci viene citata torniamo indietro dietro il suggerimento di Balaam il re di Moab indisse una grande festa in onore dei propri dei accordandosi segretamente con lui affinché invitasse gli israeliti a partecipare per Balaam non era difficile mettere in atto quel piano perché era considerato dagli israeliti profeti di Dio furono molti coloro che parteciparono ai festini avventurandosi su un terreno proibito cadendo nella trappola di Satana unendosi all'allegria dei festeggiamenti indulsero nel bere vino questo fuscò i loro sensi e la loro capacità di autocontrollo tant'è dice che erano dominati dalle passioni dopo aver soffocato le loro coscienze cedettero si inchinarono davanti agli idoli offrirono sacrifici su altari pagani parteciparono ai riti più degradanti e così finalmente arrivò la maledizione sopra israeli quella maledizione che Balaam non era riuscito a pronunciare per più volte dopo la caduta nel peccato e quale fu lo strumento abbiamo letto prima indulsero nel vino si sono ottenebrati i loro pensieri dice l'apostasia provocò fra gli israeliti ciò che non aveva potuto fare gli incantesimi di Balaam si separarono da Dio parlando della fine dei tempi la servia di Dio dice ancora nell'opera finale di ammunizione per il mondo si inviano due messaggi distinti alle chiese il messaggio nell'apocalisse 18 c'è stato dato dal secondo angelo Babilonia è caduta perché ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione ancora una volta veniamo qui a parte che non è solo un linguaggio letterale ma anche un linguaggio simbolico nelle lettere di Paolo Romani 14 21 23 è bene non mangiare carne né bere vino né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere indebolito o scandalizzato qual è stato il rapporto del nostro Signore Cristo Gesù in merito al vino il vino che Cristo provvide per la festa parliamo delle nozze di Canaan è quello che offrì più tardi ai discepoli come simbolo del suo sangue e era puro succo d'ua adesso allude il profeta Esaia quando parla del succo nel grappolo e dice non distruggere perché lì c'è una benedizione era stato Cristo a stabilire che Giovanni il Battista non bevesse né vino né cervoggio il vino non fermentato che aveva provveduto alla festa noziale era una bevanda sana rinfrescante e mirava soddisfare il gusto essendo insieme un alimento sano e qui viene ribadito il concetto quanto al tè al caffè al tabacco e alla bevanda alcoliche l'unico criterio da seguire è non usarli non assaggiarli neppure toccarli questa è la serva del Signore leggiamo ancora un pensiero in Apocalisse 17 e leggiamo i versetti da 1 fino a 4 Apocalisse 17 da 1 fino a 4 poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse vieni io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque con la quale hanno fornicato il re della terra gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vide una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto piena di nome di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna la donna era vestita di porpole di scarlatto era tutta donna d'oro di pietre preziose e di perle aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione questa è la descrizione della donna della donna la grande meretrice che ha invitato tutti i re e i potenti della terra fornicare con lei e qual è il compito dei figli di Dio nel tempo della fine? Non contaminarsi seguire un sistema di purezza sul libro Temperanza Cristiana ho letto un articolo che vi riassumo perché siamo già alla fine dove lo spirito profezia ci raccomanda l'astinenza dal vino e dalle bevande alcoliche addirittura ci fu un periodo in cui si invitavano le persone a prendere un impegno per iscritto di non consumare vino di non consumare alcol qui siamo alla fine del secolo del 1800 i primi anni del 1900 dice alla richiesta di porre la vostra firma sul documento riguardo alla temperanza non cercate alcuna scusa ma fermate il vostro impegno c'è tutta una serie di passaggi che possiamo leggere anche nel pomeriggio o in qualche altro momento dove appunto c'era questo movimento di accettare il messaggio della reforma sanitaria di astenersi dalle bevande inebrianti ne sappiamo che oltre alle bevande inebrianti quindi l'alcol il vino e tutto il resto abbiamo anche delle false ideologie delle false verità che ci vengono insegnate che ci vengono proposte che hanno lo stesso potere di confondere la nostra mente di non essere sobri e per questo noi abbiamo bisogno di stare in costante comunione con Dio la cosa peggiore che noi possiamo fare è interrompere la nostra comunione comunicazione con Dio sappiamo che questo è possibile per mezzo della preghiera e quindi vogliamo in modo particolare pregare ogni giorno affinché noi possiamo compiere la volontà del nostro Padre e non la nostra il Signore ci vengono in questo amine vogliamo andare in preghiera Padre Santo misericordioso che sei nel cielo veniamo a te per ringraziarti dell'opportunità che ci hai dato in queste ore di essere qui davanti alla tua santa e divina presenza ascoltare la tua parola ascoltare i tuoi servitori fa Signore che le verità che ci hai rivelato che ci hai ricordato possiamo farle nostre possiamo metterle in pratica aiutici ad andare anche controcorrente aiutici ad onorare la tua volontà e possiamo sottomettere la nostra a te fa che possiamo rimanere fedeli fa che anche noi possiamo essere come Daniele e i suoi compagni e anche nel momento della persecuzione della sofferenza della schiavitù possiamo rimanere a onorare il tuo nome vuoi tu proteggere ognuno di noi qua presenti coloro che ci ascoltano coloro che sono lontani coloro che si trovano in un momento di dolore di sofferenza di malattia vuoi tu intervenire vuoi tu sanare gli infermi e fa che anche noi possiamo dare il nostro conforto e il nostro messaggio di speranza aiutici a prendere coscienza dei nostri difetti dei nostri peccati affinché possiamo chiederti perdono e possiamo riconciliarci gli uni e gli altri come tu ci hai insegnato non abbiamo merito da presentarti ma ti volgiamo ogni grazia per i meriti del tuo figliolo Gesù che è morto per noi sulla croce amén stando in piedi con riverenza invochiamo la benedizione del Signore l'Eterno ti benedica e ti custodisca l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio l'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace amén 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 grazie